Aiuto! Non preoccuparti, ti butto la corda! Bau, bau, bau! Perché abbai? Sono un canno nolo! Quanto corrisponde un anno luce? Facile, ha sei bollette Enel! Sei veramente un grande ipopita! Per forza, sono un bigotto! Prof, sono velocissimo a fare i calcoli! Quanto fa sei per tre? Ventuno! Cinque per undici? Quarantacinque! Nove per quattro? Otto! Le hai sbagliate tutte! Sì, ma sono stato velocissimo! Dove andiamo stasera? Non te lo dico, endovena! Si descriva in tre parole! Efficiente! Voglio candidarmi alle elezioni comunali! Per fare cosa? Ma è ovvio, il sindaco! Quanto è in rischio!